Vieni con noi al sessantaduesimo Zecchino d'Oro I bambini, le canzoni, le sorprese Una festa in cui c'è posto per tutti Anche per te Siamo noi, lo Zecchino, siamo noi Siamo noi, lo Zecchino, siamo noi Anche tu Laura sei lo Zecchino Anche tu Nicolo E anche tutti voi Abbiamo scoperto insieme le canzoni e i solisti dello Zecchino Ma ora è arrivato il momento di parlarvi di noi Il coro dell'Antoniano È in lontano 1963 Quando una giovanissima maestra di canto, Mariele Ventre Dà vita al piccolo coro dell'Antoniano Che diventerà il protagonista di tutte le edizioni dello Zecchino d'Oro In poco tempo riesce a farsi conoscere in tutto il mondo E tante sono le esibizioni con famosi artisti nazionali e internazionali Oggi come allora il coro dell'Antoniano Continua a trasmettere attraverso la musica L'amore per la vita e la gioia di aiutare gli altri Dal 1995 la maestra Sabrina Simoni guida il coro dell'Antoniano E quante esperienze, quanti progetti fino a qui Sanremo, la visita al Presidente della Repubblica E a Papa Francesco I concerti in Cina E' stato bellissimo ripercorrere questi 56 anni insieme Non è vero Nicolò? Certo, ma mica abbiamo finito qui? Abbiamo ancora tante avventure, progetti e canzoni Alla prossima! Ciao!